C'è chi parte e chi decide di rimanere a rinfrescarsi in casa o nelle spiagge fanesi. Sono queste le reazioni dei cittadini a questa ondata di caldo che persiste anche nella nostra città. Sentiamo le interviste. Un mese di caldo da record, come sta passando le sue giornate? Devo dire che qui nelle Marche è benissimo, perché sul mare è bello ventilato, quindi si sta molto bene. A Milano un po' meno, però insomma si fa il possibile. Quindi è venuta qua per rinfrescarsi? Sì, rinfrescarmi e stare in vacanze, devo dire che è davvero molto bello. Come sta passando le sue giornate? Io sono spesso dentro casa, se esce il mattino perché è un pochino più fresco, è la sera sempre dentro casa perché è troppo caldo. E come prevenire questa situazione? Vado al mare quanto posso, magari sto in acqua un pochino e mi rinfresco così quanto posso, se no sto a casa. Da pazzi qui, a casa col clima, basta. Ho al mare qualche volta così, ma per 5 minuti, 10 minuti al mare e poi me la cavo. Siamo qui venuti a fare un giro detto così, sperando nel tempo che raffrescassi, però molto poco, per la verità. Aspettavo molto di più del tempo, la clemenza del tempo non c'è. O si va al mare oppure me ne sto a casa con l'aria condizionata. E se devo stare al lavoro, senti qua, nonostante ciutto, si sta bene? Bene, bene, molto bene anche perché io vengo di Dubai e sono qua per due mesi, quindi dai, sto bene, devo dire la verità. Per il caldo che fa Dubai, sto veramente bene qua. Quindi sei venuta a Fano per rinfrescarti un po'. Esatto, esatto. Si sta a Fano, è veramente bellissima. Molto, molto bella come città.